Cari amici di Campodifiori, lettori della rivista, coloro che girano sulle nostre pagine internet di Radio Palcoscenico e Radio Punto Zero, le abbiamo dette tutte. Sandro Alessi è in un locale del centro di Roma, un locale molto bello, un disco bar, potremmo chiamarlo così, e accanto a me avete riconosciuto sicuramente la nostra performer preferita, Sally Van Tassel. Ciao Sally! Ciao Sandro! Allora, poca voce, però è quello che basta per raccontarci un po' la tua storia. Diciamo il nome di questo locale dove ti trovi. È il Chaplin Live Bar che ci ha ospitato per un mese ogni martedì, sia con del cabaret burlesque che con la musica live. Bene, quindi prendiamo in prestito un attimo questa stupenda sala, questi salottini magici per parlare di te, perché tu sarai sulle pagine di Campodifiori. Allora, innanzitutto partiamo dal nome, perché in una performer il nome è molto importante. Sì, il mio nome è Sally Van Tassel e viene dal cinema, perché è l'amore della mia vita, e viene da Tim Burton, che è uno dei miei registi preferiti in assoluto, nonché è amante del circo, del circo dark, che è un po' quello che andremo anche a rifare stasera al Chaplin Live Bar, in quanto è un pre-Halloween Party. Setti, ma quando hai deciso di amare così tanto questo tipo di arte, che comunque da tanti anni ormai è entrata anche in Italia, proveniendo dall'estero, e comunque ha preso nella maggior parte dei locali? Ma io ho deciso... non ho proprio deciso. Amo il cinema e il burlesque al cinema, c'è sempre stato il primo numero burlesque nel cinema, in Metropolis, di Fritz Lang. A iscrivermi al mio primo corso burlesque fu ormai undici anni fa il mio ex fidanzato, per farmi un regalo. Sono sette anni che lo faccio da professionista, perché è il palcoscenico che ti chiama e non ti molla più. Satti, ma tu oltre a presentarti al pubblico, comunque crei anche degli eventi, comunque dai una scuola, insegni? Sì, ho una scuola di burlesque, insegno, e vengo dalla scuola di Le Folli Retro, e da quest'anno anche ho una scuola mia, anche se non mi sono mai separata dalle Folli Retro. Sì, poi presento degli eventi sempre sia con Le Folli Retro che in autonomia. Quelli di questa sera al Chaprin Live Bar sono il Bonton Circle, perché poi a ogni ciclo di eventi diamo un nome differente, ci piace dare un'identità differente. Senti, da dove prendono spunto comunque le tue esibizioni, questi personaggi che poi nel burlesque comunque si prendono un po' in giro? Comunque diciamo che non è importante il corpo nel burlesque, perché comunque chiunque può avvicinarsi anche. Sì, chiunque può avvicinarsi al burlesque, non è necessaria una fisicità, ma è importante saper tenere il palco. Poi da dove viene l'ispirazione, dai luoghi più disparati, non posso parlare per le mie colleghe, per me ogni personaggio, ogni act viene dal cinema, che ripeto è l'amore della mia vita. Senti, dobbiamo andare veloci, perché stai per partire con lo spettacolo. Lo spettacolo è stasera qui al Chaplin Live Bar in Via d'Araceli 41, mi sembra di aver detto bene. Ti vedremo anche sulle pagine di Campo dei Fiori e ti ascolteremo in radio. Io ringrazio e saluto Sally Van Tesser. Ciao. Ciao.